I grandi e i piccoli perché? Perché il mare è salato? Avete provato ad assaggiare il mare? È decisamente salato, ma non è stato sempre così. Fino a un miliardo di anni fa, l'acqua marina era dolce, o meglio, insapore, come quella dei fiumi e di molti laghi. I grandi e i piccoli perché? Perché il mare è salato? Da cosa deriva allora questa salinità? Tutti i mari del nostro pianeta si sono formati per le abbondanti piogge che si sono riversate nelle depressioni della crosta terrestre che iniziava a raffreddarsi dopo il Big Bang. L'acqua piovana, scorrendo sul terreno, ne ha progressivamente inglobato i sali minerali. L'erosione delle rocce prodotta dallo scorrere dei fiumi fino a sfociare nel mare, unita al calore del sole che fa evaporare l'acqua ma non i sali, ha contribuito ad aumentare la concentrazione soprattutto del cloruro di sodio, che noi usiamo come sale da tavola dopo che l'uomo ha cominciato ad estrarlo per insaporire e conservare i cibi. Le acque superficiali sono più soggette all'evaporazione rispetto a quelle profonde, dove la luce solare arriva a fatica, quindi gli abissi oceanici sono un po' meno salati. Secondo recenti teorie, anche la decomposizione degli esseri viventi e il materiale che fuoriesce dai vulcani sono responsabili della concentrazione di sali nel mare. Oggi hai imparato perché il mare è salato!